Ecco qua, siamo nel moderno trapuntificio e abbiamo qua una signorina che ci spiegherà perché una persona con l'assortimento, la scelta che c'è sul mercato dei materassi dovrebbe farsi confezionare un materasso su misura con la sua lana. I materassi a mano artigianali sono una richiesta del passato riproposta nel presente perché appunto sono prodotti naturali, c'è la possibilità di poterli riutilizzare, recuperare e riadattare poi nel tempo, sono materiali del tutto naturali e aiutano la confortevolezza anche del sonno e sono durevoli nel tempo. Quanta lana ci vuole per fare un materasso per persona? Allora, in un materasso tradizionale ci sono nasce con 13-14 kg di lana ognuno, possiamo arrivare fino a 16 kg ognuno. anticamente e ancora oggi noi utilizziamo la cardatura, la cardatura a mano della lana per poterla ripulire. In questo laboratorio quante persone sono impiegate? Siamo in due, siamo in due ad aiutarci per poter realizzare i nostri prodotti perché comunque sono prodotti che richiedono anche prestato aiuto. Da molto tempo esiste questo laboratorio artigiano? Sì, da più di 40 anni e praticamente nel... Quindi siamo a Rimini, siamo in un posto dove il fatto che ci fossero stati materassi per alberghi, quindi strutture alberghiere piuttosto frequenti, quindi diciamo questo laboratorio artigianale ha luogo proprio per la struttura di Rimini come città alberghiera. Sì, noi specialmente lavoriamo con i privati perché comunque vogliamo mantenere la tradizione dell'artigianato e curare il singolo cliente e per poter poi anche soddisfare le mie esigenze anche nei miei particolari. E la nostra struttura sì è molto caratteristica perché abbiamo ancora telai di vecchia manifattura e anche diversi macchinari che sono abbastanza adattati per i metodi appunto che usiamo tradizionali che vengono poi riutilizzati oggi. Una domanda, materasso a molle, materasso di lana, materasso di lattice, confortevolezza, qualità, lei diciamo su quale letto dorme? Di lana, di lattice o a molle? Io personalmente utilizzo quello a molle perché diciamo che è quasi più pratico, sono un po' della seconda generazione, però trovo ottima anche, utilizzo anche le materasine di lana perché l'inverno aiutano a riposare meglio, tengono molto più caldo, sono favorevole, sono anche per il lattice però è un materiale che è sperimentato adesso, viene sperimentato, è un materiale nuovissimo che però essendo naturale in parte perché sono addensati di polioli nel tempo poi dopo viene, si degrada, però comunque è un buonissimo, si utilizza molto bene perché come riposo è ottimo insomma. E' importante quindi dormire bene, questa è una società di persone dalle notti insonni che non riescono a dormire, che non riescono a riposare dopo la stanchezza del lavoro, quindi diciamo la scelta del materasso è importante, il materasso con le lenzuola di cotone, possibilmente di cotone grosso. Sì, poi con una bella trappunta magari, con una trappuntellana o un piumino. Perché fate, realizzate anche delle trappunte in lana. Sì, ed anche con lana del cliente, è data su misura. E c'è molta, non che lo voglia sapere, ma appunto costa molto un materasso a lana, di lana, fatto da voi, magari rispetto a un materasso che si va a comprare a molle in un negozio. Sì, allora, nella tradizione artigiana diciamo noi usiamo prodotti di prima qualità, perciò abbiamo una concorrenza di prezzi, però noi lavorando sulla qualità abbiamo un attimo prezzi differenti rispetto poi alle grandi catene di distribuzione che sono più commerciali. Però la valedità e la durevolezza nel tempo si verifica dai materiali che impieghiamo, che possono essere sempre riutilizzati, sfuciti e riadattati. Quindi hanno una durata eterna, vengono passati come il corredo, diciamo una volta. La tradizione di famiglia vengono anche da 50 anni in 50 anni, insomma, si possono riutilizzare. Va bene, allora prima di augurare un buon sonno a tutti, mostriamo questa specie di, come si chiama signorina? Questa cardatrice dove, se chiudiamo, la scena con lei che fa vedere come si fa a sgranare la lana, come si dice, a cardarla. Quindi è proprio un momento di artigianato tipico italiano questo. Ecco, la signorina sta mettendo della lana da cardare presa dai sacchetti e la sta mettendo nella cardatrice. E quindi fa questo movimento per poterla poi ripettinare, perché la lana possa essere liberata dall'impurità, dalla polvere e si ottiene anche del volume in più. Quanti passaggi deve fare? Una volta sola è sufficiente? Dipende dalle lane. Se le lane sono corte bisogna ripassarle, altrimenti oppure se le lane sono molto trattate bisogna passarle due volte. Se invece le lane sono di qualità superiore come il resino o la lana, il lana resino che fa anche schiavona, basta solamente un passaggio. Lei questo mestiere l'ha imparato dalle nonne, dalle mamme, da chi l'ha imparato? Sì, dalle nonne. È una tradizione di famiglia, sono cresciuta qui dentro e praticamente mi porto, mi sono sempre portata dentro a un sogno, insomma. Quindi lei diciamo è una donna giovanissima, però allo stesso tempo antica, perché conserva queste tradizioni antiche. Grazie signorina, buonasera. Grazie, arrivederci.